La puntata di oggi La puntata di oggi è imperniata su una conversazione con Bianca D'Angelo, consigliere regionale del PDL, componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con funzione di segretario. L'ultimo consiglio regionale ha segnato una certa spaccatura nel PDL, nel centrodestra tra il gruppo Caldoro e il gruppo PDL che fa riferimento a Nitto Palma. Si va verso una ricucitura di quanto accaduto? Sì, ma infatti io non parlerei di spaccatura. Lei si riferisce sicuramente alla bollinatura, ma in effetti non è successo nulla di grave. Semplicemente abbiamo richiesto che le leggi che vengono proposte dal Consiglio passino attraverso un iter più veloce in modo da dare anche a noi la possibilità di lavorare meglio. Quindi l'aggiunta comunque è coinvolta perché per ogni legge che noi andremo a proporre aspetteremo una relazione tecnica degli uffici preposti entro 30 giorni, per cui sicuramente il parere dell'aggiunta sarà non solo ascoltato ma anche preso in considerazione laddove si riterrà opportuno. Quindi non parlerei di spaccatura, semplicemente come gruppo abbiamo sentito l'esigenza di accelerare alcuni percorsi, alcune iter interni in modo da darci la possibilità, ripeto, di lavorare meglio e in maniera più veloce. Ecco, con voto trasversale è passata la normativa per quanto riguarda gli stabilimenti balneari che quelli dotati di regolare concessione potranno restare aperti per tutto l'anno. Questa è un'ottima cosa per la nostra regione. La destagionalizzazione per noi era importantissima perché i nostri stabilimenti balneari veramente hanno la possibilità di lavorare non solo sei mesi l'anno ma molto di più pensando alla nostra stagione che si prolunga a ottobre, novembre. Quindi credo che questa sarà un'ottima cosa per gli imprenditori del settore e staremo a vedere i primi risultati alla fine della stagione di quest'anno. Apriamo ora una finestra sulla politica in senso stretto, bussano alle porte le elezioni amministrative in Campania, ma ovviamente non soltanto in Campania, in tutta Italia. Quali potrebbero essere gli scenari all'indomani del voto? C'è chi prevede grosse sorprese, difficoltà sia per il PDL che per il PD. Sì, ci saranno grandi novità, sono già state annunciate in questi giorni dai vari leader dei partiti. Per il PDL, Angelino Alfano proprio ieri ha parlato di una grossa novità alla fine delle amministrative che verrà rilanciata dal PDL e io sono sicura che questo momento di forte antipolitica deve essere governato dai partiti. Il governo tecnico, le cui aspettative erano immense, si sta ridimensionando anche agli occhi dell'opinione pubblica. Siamo passati da una percentuale altissima di gradimento all'inizio del loro mandato, parliamo di un 80%, adesso siamo a un 45%. Perché naturalmente l'opinione pubblica si sta rendendo conto che tutto sommato questo governo tecnico non sta affrontando i reali problemi della gente. Perché noi parliamo di articolo 18, ma forse faremmo meglio a parlare di tutte quelle aziende piccole e medie che non riescono ad andare avanti e che chiudono per mancanza di lavoro. Allora noi parliamo di contratti di lavoro, ma se le nostre aziende sono costrette a chiudere o quelle che scelgono di trasferire le loro attività all'estero, ma di che cosa stiamo parlando? Credo che questa sia una cosa che l'opinione pubblica sta percependo in maniera forte e chiara e io auspico velocemente un ritorno alla politica. Perché è la politica che deve governare questi processi. Non si può fare qualunquismo, esistono i medici buoni e i medici cattivi, i professionisti validi e quelli meno validi, esistono i buoni politici e i politici meno buoni. Quindi non si può fare un qualunquismo, cosa che in questo momento purtroppo l'opinione pubblica vive una fortissima antipolitica laddove ritengo anche che ci siano mediaticamente delle cose valide per le quali si vive questo momento così difficile, però questo deve rientrare e ci si deve avviare a una stagione diversa. A proposito delle difficoltà delle aziende campanevi e poi il progetto della costituzione di banche regionali, se ne parlerà la prossima settimana? Ma sì, perché c'è uno studio di Union Camere recentissimo che parla della chiusura di 146 mila aziende nei primi tre mesi. Questo è un dato gravissimo e per questo mi avrebbe fatto piacere sentire da questo governo tecnico una risoluzione a tutto questo. Quindi diciamo che non vedo il valore aggiunto del governo tecnico in questo momento, non vedo riforma della giustizia, non si fa un volano di crescita e di occupazione, diciamo che in questo momento non si vede. Quindi banche regionali, come dicevamo, è una proposta imminente che per la settimana prossima verrà presentata proprio per dare l'opportunità in regione Campania di aiutare tutti quei piccoli e medi imprenditori che hanno necessità di interfacciarsi con un sistema bancario più facile, laddove in questo momento le banche non stanno aiutando. Torniamo alla politica nazionale, il PDL annuncia grandi novità attraverso il segretario Angelino Alfano, c'è già chi la novità l'ha messa in cottura, mi riferisco a Pierferdinando Casini, lo scioglimento dell'Udc, la nascita del partito che si chiamerà forse Partito della Nazione, ma il nome non è ancora certo. Sicuramente abbiamo bisogno di innovare e anche questo è un modo per farlo, quindi ben vengano nuove iniziative, ben vengano figure come quella di Angelino Alfano che rappresentano una novità non solo sotto un profilo anagrafico perché è un giovane, ma perché ha l'energia, le qualità e la voglia di dare un contributo reale a quello che può essere il cambiamento che il Paese richiede e del quale ha assoluta necessità. Quindi ben vengano le iniziative di qualsiasi tipo che possano traghettare l'Italia fuori da questo momento così difficile. Ma la fronda poi Pisano, cioè più che fronda Pisano è di fatto uscito dal PDL, il PDL diventerà qualche altra cosa secondo i progetti di Berlusconi, ma lo scacchiere quindi nulla sarà più come prima? Nulla sarà come prima, è una situazione molto aperta, ma ripeto in questo momento c'è bisogno di quelle innovazioni e di quelle novità che possano riavvicinare i cittadini alla politica. E quindi aspettiamo tutti con grande favore quello che metterà in campo a livello nazionale il partito dopo le amministrative. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione, taccuino politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.